La confessione spiegata ai giovani. 18 gennaio 1976. Ora permettetemi di chiedervi di usare di quel sacramento che il mio Gesù istitui, proprio perché la vostra vita spirituale sia così abbondante da poterne far godere anche altri. Parlo della confessione, che è il potere di rigenerare le anime alla vita, di reinserire i rami secchi nella vite perché, fluendo in essi la linfa divina, possono essere vivificati. È il sacramento della misericordia. È un dono immenso del Signore, che, attraverso un atto semplice di umiltà che vi porta ai piedi del sacerdote, peccatori come voi, per detestare le vostre colpe, vuol risanare le ferite dell'anima e infonderle nuova forza. È il sacramento d'amore, in cui il proponimento di vivere una vita veramente cristiana, viene come suggellato dal sangue dell'uomo Dio e rafforzato dalla sua benedizione particolare. Usare bene del sacramento della confessione, è ritornare al padre come il figlio al prodigo, o lasciarsi prendere fra le braccia del buon pastore come pecorelle bisognose di cure ed affetto. Quando vi si propongono confessioni a tu per tu con Dio, non dovete disprezzarle, ma dovete ricordare che queste sono una preparazione ad ottenere quel perdono che Dio, in modo visibile, dà a mezzo del sacerdote. Quanto vorrei che il vostro apostolato fosse completato in questo modo, con un richiamo allo stato di coscienza di ciascuno, col dolore dei peccati, e un accenno a quel dono meraviglioso che, oltre a dare la pace dell'anima, può essere un buon coefficiente per avere la salute fisica. Io vi aiuterò, ma da parte vostra, procurate di fare regolarmente il vostro bagno salutare nel sangue dell'agnello mediante la confessione, che, anche se non avete peccati mortali, vi rinnova e vi aumenta con la grazia e il desiderio di santità e di bontà, così necessari per progredire nel bene. Figli miei, quanti aiuti, quante grazie, quanta luce da questi incontri! Voi nemmeno ve ne avvedete, eppure di tutto rimarrete meravigliati un giorno. Vi benedico tutti ad uno ad uno. Sono con ciascuno di voi. Abbiate fede, il resto lo facciamo noi. Arrivederci, figli!